Salve a tutti. Oggi parleremo di una invenzione che potrebbe sconvolgere il mondo. Parleremo del catalizzatore di energia o se preferite amplificatore di energia scoperto da Rossi e Focardi. Ne parleremo con i nostri ospiti, collegato da Bologna a proprio uno dei due inventori, il professore Sergio Focardi. Benvenuto professore. Buonasera, grazie. Poi qui in studio ne parleremo con Francesco Celani, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con Stefano Borrini, consulente per brevetti. Da Firenze è collegato con noi Pietro Cambi, giornalista, blogger e membro dell'Associazione per lo studio del picco del petrolio. In studio qui a Roma, Deborah Billi, anch'essa giornalista, blogger e membro dell'Associazione per lo studio del picco del petrolio. E Angelo Saso, nostro collega, che ha realizzato un lungo documentario su questo argomento, ma ve ne faremo vedere inizialmente alcuni minuti per capire come funziona la macchina. Prego la regia di mandare in onda il servizio di Staso. L'Energy Catalyzer è ormai pronto per la sua prima uscita pubblica. L'apparato sperimentale viene caricato con un grammo di polvere di nickel e con una piccola quantità di idrogeno ad alta pressione. E' lo stesso Andrea Rossi ad accendere la macchina, mettendo energia elettrica in una serpentina che scalda il reattore. In pochi minuti la temperatura schizza verso i 100 gradi, vaporizzando l'acqua che circonda il sistema. Il fisico dell'Università di Bologna, Giuseppe Levi, certifica che in un'ora di funzionamento l'Energy Catalyzer ha prodotto 10 kilowatt di potenza, 30 volte di più dell'energia immessa. Una quantità enorme di energia, impossibile da spiegare secondo le leggi della chimica e della fisica. Abbiamo fatto le nostre misure, le abbiamo ripetute, abbiamo controllato che non ci fossero cavi nascoste, abbiamo controllato che non ci fossero batterie nascoste, abbiamo pesato... Adesso, tutte le evidenze sperimentali che abbiamo ci indicano che l'oggetto sta funzionando. Il combustibile che questa macchina consuma è costituito da nickel e idrogeno. In 24 ore questa macchina consuma circa un grammo di idrogeno e in 180 giorni consuma circa 50 grammi di nickel. Che vuol dire a livello economico? Quanto costa? Un grammo di idrogeno non ho idea, forse un centesimo e 50 grammi di nickel 50 centesimi. Io l'ho visto funzionare a dicembre, a gennaio, una prova tecnica agli inizi di febbraio e un'altra prova a marzo e ci saranno ulteriori altre prove. A un certo punto a Bologna si dice che se canta come un gallo e raspa come un gallo, allora un gallo. Il 29 marzo 2011 da Stoccolma volano a Bologna due autorevoli fisici svedesi, il presidente del comitato energia della Reale Accademia di Svezia Sven Kullander e il professore di fisica teorica nonché presidente della società svedese degli scettici Anno Essen. Rossi ha preparato una macchina più piccola, più stabile. È un test fondamentale per valutare l'affidabilità del sistema. Per quasi sei ore l'energy catalyser produce energia di fronte ai due fisici svedesi. È rimasto colpito dal test effettuato a Bologna? Sì, è stata generata energia che secondo me non può essere spiegata con processi chimici. Siamo di fronte a fonti di energia che sembrano essere radicalmente nuove, molto stabili e anche affidabili rispetto a molti altri esperimenti di fusione fredda che invece si sono rivelati molto sfuggenti e difficili da riprodurre. Ritiene che nel reattore avvenga una reazione di tipo nucleare? Sì, credo di sì. Sono convinto che si tratti di una produzione di energia difficile da spiegare con altri mezzi. È in grado di escludere che l'apparato nasconda dei trucchi? Non posso dirlo con assoluta certezza, ma non ho il sospetto che ci siano trucchi. Non abbiamo trovato traccia o segni di possibili imbrogli, anche se devo ammettere che non abbiamo verificato ogni singolo elemento. Rossi decide di utilizzare una polvere di nichel arricchito, in cui probabilmente è maggiore la presenza di isotopi con numeri atomici più grandi, prossimi a quello del rame. Sven Kullander ha analizzato un campione di polvere di nichel che secondo Rossi era stato utilizzato per due mesi e mezzo all'interno di un energy catalyser e ha trovato che il 10% era composto da rame. Come spiega la presenza di rame nelle ceneri? Beh, se non è stato aggiunto forse c'era del rame nell'ambiente circostante, anche se bisogna dire che la percentuale rilevata è troppo alta. L'altra ipotesi è che si tratti di un processo nucleare per cui il nichel cattura i protoni e forma il rame. Per Rossi e per altri l'aspetto più importante è dato dal fatto che questo dispositivo funziona. È importante però anche comprendere l'aspetto scientifico che a questo punto è molto misterioso. Io non l'ho ancora capito e non credo che ci sia qualcuno che ci sia riuscito. Professor Focardi, intanto grazie di essere con noi e può cercare di spiegare a noi che non siamo degli esperti, siamo dei giornalisti, quindi degli ignoranti. Ci può cercare di spiegare qual è il meccanismo fisico, il processo fisico che produce energia. Io ho cercato di leggere la richiesta di brevetto europeo e si citava un decadimento di isotopi radioattivi. Ecco, può spiegarci che tipo di decadimento, che tipo di radiazioni, se beta, meno, beta più? Il processo che dà origine alla generazione di energia non può essere un processo di tipo chimico per le quantità di energia che vengono fornite, che sono enormemente più grandi di quelle che si ottengono per esempio dalla combustione. Siccome i componenti del materiale che viene utilizzato sono il nickel e l'idrogeno, noi riteniamo che si tratti di un processo di fusione nucleare, nel senso che il nucleo dell'idrogeno, che è quello che normalmente si chiama protone, penetra nel nucleo del nickel. A questo effetto, a questo comportamento, corrisponde una variazione del nucleo del nickel, il quale, trovandosi con un protone in più, diventa rame, che è l'elemento che segue il nickel nel sistema periodico. Per cui, diciamo, questo spiegherebbe il processo. È chiaro che ci sono alcune difficoltà di interpretazione, perché il protone per penetrare nel nucleo si trova un campo elettrico, se vogliamo dire in modo più semplice, una forza di natura elettrica contraria che ne contrasta il moto, per cui rimane difficile capire come avvenga questo processo. Non si può spiegare in maniera molto semplice, anche se nella fisica ci sono delle spiegazioni di tanti processi in cui certe particelle si camuffano, cambiano, si trovano in stati particolari. Ma noi non abbiamo tentato una strada di questo tipo. Abbiamo interpretato semplicemente il processo come cattura del protone dal nucleo di nickel. A questo punto si forma il nucleo di rame, che si trova in uno stato eccitato, perché non è uno stato stabile del rame. Questo stato eccitato corrisponde al fatto che il rame si trova in livelli nucleari eccitati, dai quali decade la particella che si trova nel livello eccitato, presumibilmente il protone. Questo dà luogo a emissione di raggi gamma e in corrispondenza all'emissione di ogni raggio gamma il nucleo di rame retrocede come fa l'affusto di un cannone quando parte il proiettile. Questo avviene in più passi ovviamente e in questo modo il nucleo di rame cede energia al mezzo, lo riscalda. Questo è importante perché accelera altri processi successivi che richiedono una temperatura abbastanza elevata per permettere al protone dell'idrogeno di penetrare nel nucleo. Quindi una volta che il processo si è iniziato si automantiene. Non occorre più dargli una grande quantità di energia, funziona quasi da solo, incredibilmente da solo. Bene, questo produce energia ovviamente e siccome l'energia prodotta è notevole rispetto a quello che si può ottenere anche bruciando del carbone o bruciando dell'olio combustibile, questa è la firma che si tratta di un effetto di tipo nucleare. Ma ce n'è un'altra di firme importanti perché nel processo in cui il nucleo di rame diseccita vengono emessi raggi gamma e noi abbiamo le prove che questi raggi vengono emessi perché durante tutta la sperimentazione che abbiamo condotto Rossi e io abbiamo verificato che la radioattività nelle vicinanze della cella, dell'apparato quando questo non era totalmente schermato dal piombo era leggermente maggiore della radioattività naturale e questa era la conseguenza dell'emissione dei gamma. Poi naturalmente dal punto di vista pratico, applicativo siccome un processo radioattivo è sempre da evitare negli apparati viene introdotto, inserito un piccolo schermo di piombo attorno alla regione in cui avvengono questi processi il quale ha come risultato quello di assorbire la radiazione gamma per cui all'esterno, non di una macchina funzionante le nostre macchine hanno funzionato per mesi non c'è radioattività queste affermazioni le possiamo dire sulla base dei controlli che noi abbiamo fatto fare non li abbiamo fatti noi ma li abbiamo fatti fare agli specialisti del gruppo di fisica sanitaria del Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna che sono ovviamente persone di notevole qualità di notevole classe e hanno a disposizione tutti gli strumenti che servono a questo e questi hanno dimostrato che all'esterno della macchina non c'è radioattività questa attestazione è importantissima perché altrimenti ci sarebbe una dose di rischio un certo rischio ad averla nella stanza ad averla vicino e questo creerebbe dei grossi problemi ringrazio professore Celani, lei ha già lavorato su questo argomento ha già lavorato sulla fusione fredda su procedimenti molto simili di fusione fredda fusione a basse temperature insomma ecco come reagisce a questa interpretazione molto precisa e puntuale del professore? diciamo il punto l'interpretazione è avvincente ovviamente però il punto che a me come ricercatore quadratico medio con i piedi per terra moltissimo per terra è chiaro la interpretazione è bella però forse sarebbe bene partire dal punto zero cioè dare a disposizione a un ricercatore qualunque la macchina permettere a questo ricercatore di fare tutte le misure calorimetriche necessarie che decide il ricercatore non decide l'inventore ovviamente la macchina rimane chiusa così si evita qualunque tipo di problemi brevettuali e se il bilancio energetico totale di tutte le potenze immesse di uscita è molto maggiore di quella di ingresso moltiplicato il tempo della sperimentazione è 10-20 volte più alta di qualunque reazione chimica o fisica nota è chiaro che l'unica spiegazione plausibile è quella non nucleare va detto un punto la differenza in qualche modo che c'è tra quello che ha trovato Rossi e Fogardi e gli esperimenti convenzionali storici di usine fredda è che in questo caso l'ammontare totale di energia o il rendimento è da 10 a 100 volte, 1000 volte più alto di quello tipicamente trovato negli altri esperimenti cioè in esperimenti storici qualcosa c'era poco sembrerebbe che loro siano riusciti ad amplificarlo però mentre negli esperimenti storici chiunque andava nel laboratorio del ricercatore poteva fare tutte le misure che voleva in questo caso per motivi brevettuali questo finora non è stato possibile fare e quindi finché non viene fatto bisogna attendere è una situazione per un ricercatore molto frustrante che a volte mi fa anche arrabbiare ecco a livello personale sarebbe difficile ottenere un brevetto con la spiegazione che ha dato adesso il professor Fogardi il problema sarebbe convincere l'esaminatore perché attualmente la procedura europea l'esaminatore ha dichiarato e ha messo per iscritto che essendo basata la spiegazione su teorie non riconosciute ufficialmente e soprattutto mancando esperimenti che puntualmente dimostrano come sia stato ottenuto quella fonte di energia non è che il brevetto sia messo molto bene nel senso che l'esaminatore è stato replicato però probabilmente l'esaminatore manterrà questa sua posizione se non viene integrato nei limiti del possibile ci si è venuta prodotta la documentazione che effettivamente la descrizione brevettuale consente a un terzo di replicare per quanto riguarda il brevetto poi essendo depositato secondo me se c'è scritto qualcosa nel brevetto questo non può essere addotto al segreto industriale perché o si fa brevetto o si tiene segreto industriale dopodiché per me è questa la posizione Pietro Cambi buongiorno benvenuto allora mi dia un po' la sua interpretazione lei si è già occupato dell'esperimento dell'energy catalyzer ha già conosciuto anche il professore che tipo di difficoltà e che tipo di possibilità e di futuro anche riesce a leggere da questo esperimento diciamo innanzitutto ovviamente sarà un duro lavoro quello del professore dell'ingegner Rossi di dimostrare come dire l'applicazione concreta questi catalizzatori insomma generatori portatili e poi meno portatili comunque diciamo che ovviamente l'energia a basso costo a costo quasi zero è un enorme strumento come tutti gli strumenti ha come dire un doppio uso ecco uno buono e uno cattivo noi finora sappiamo bene delle nostre attuali fonti energetiche che usano abbiamo fatto sicuramente è uno buono è lo sviluppo industriale è lo sviluppo economico del nostro paese sono dipese in fondo dalla possibilità di accedere facilmente a risorse energetiche a prezzo relativamente contenuto però conosciamo bene le implicazioni geopolitiche e ambientali il fatto di avere un'energia quasi gratis implica sicuramente l'allontanamento di uno spettro molto presente che è quello ovviamente come dire insomma delle guerre per il petrolio la faccio breve insomma per l'energia futura o della crisi economica legata al costo elevato dell'energia è un paese come il nostro che non ha fonti energetiche proprie proprie ancora evidentemente particolarmente sensibile a questo genere di problemi quindi diciamo l'opportunità enorme ovviamente è solo una delle risorse del pianeta che noi stiamo consumando il petrolio il gas il carbone è solo un aspetto ovviamente è quello che è immediatamente più sensibile che si riflette immediatamente noi non è che ci rendiamo conto come dire della penuria di tantalio e non sappiamo neanche che cosa serve però senza di quello i nostri cellulari non funzionerebbero quindi e non solo ma facciamo o per meglio dire lasciamo fare orrende guerre civili in Africa dove questo elemento strano questa terra rara viene estratta quindi ritengo che diciamo è una grande opportunità di strappare buona parte dell'umanità come dire allo stato di isolamento in cui vive perché più di metà del pianeta non ha accesso all'energia a basso costo non come dire riguarda le proprietà che più di metà del pianeta non ha l'energia elettrica per esempio quindi è sconnesso da internet e si può informare solo nella misura in cui qualcuno viene a raccontare delle cose che possono non essere neanche le cose vere quindi è una grande opportunità qualora fosse confermata la scoperta è una grande opportunità e anche una grande responsabilità che questa generazione la nostra si troverebbe a avere tra le mani insomma cioè come dire uno strumento potente può provocare anche dei danni molto importanti ovviamente speriamo comunque che ci si riesca perché sarebbe davvero importante ma Angelo tu come giornalista come un po' tutti noi hai cercato di capire di che cosa si tratta hai la seconda possibilità il professore collegato con noi che cosa gli chiederesti è una scoperta fantastica se veramente se si riuscirà a dimostrare che funziona veramente Focardi e Rossi come tra l'altro mi ha detto nell'intervista anche il professor Cullander il presidente del comitato energia della Chiamina di Svezia veramente è roba da premio nobelle anche oltre perché veramente è una svolta epocale per l'umanità ovviamente ci sono ancora tanti se e tanti aspetti da verificare il professor Focardi neanche nell'intervista che ha fatto con me mi ha spiegato già appunto questo funzionamento questo processo che però chiaramente è un processo che è difficile da documentare nel senso che comunque si tratta di una novità di un'innovazione di grandissima importanza ma difficile ancora appunto non ha precedenti quindi tutto ancora da vedere la cosa che mi ha colpito è il discorso dell'avvento di Rossi cioè diciamo che il signor Rossi è arrivato in un campo in cui già da vent'anni tanti team nel mondo a cominciare appunto da il professor Piantelli a Siena lo stesso Sergio Focardi a Bologna lavoravano su questo argomento con grande passione e grande interesse però avendo sempre risultati piuttosto modesti in termini di resa energetica l'arrivo di Rossi due o tre anni fa ha portato questa enorme innovazione quindi bisogna riconoscere al signor Rossi una grande capacità di innovare di portare novità con questi aspetti di segretezza che ovviamente in questa fase sono probabilmente giustificabili in vista poi appunto di un possibile uso industriale però ovviamente ecco una verifica come diceva il professor Celani una verifica quantomeno degli aspetti di energia e di ingresso in uscita una verifica pulita trasparente sarebbe auspicabile per diradare o scacciare questi dubbi sulla effettiva resa della macchina ovviamente la cosa che poi colpisce in assoluto è il fatto che tra pochi mesi queste macchine secondo le previsioni saranno sugli scaffali se saranno in vendita noi abbiamo già a ottobre questo evento annunciato questo grande evento in Grecia un megawatt di energia prodotto con 300 piccoli reattori associati in parallelo in serie in una struttura appunto sarà un grande evento che prevedono di fare in Grecia e subito dopo a novembre Rossi prevede di vendere già nelle case questo prodotto il che è francamente stupefacente perché se ci riusciranno secondo te da giornalista cioè abituato a dire le cose come stanno è realistico pensare che a novembre si passi si possa ottenere il brevetto si possa ottenere il permesso dell'agenzia atomica per l'utilizzo di isotopi radioattivi in una macchina e diffonderla io mi auguro che effettivamente il signor Rossi e il professor Focardi abbiano fatto bene i conti abbiano calcolato bene i programmi ovviamente vedo tanti ostacoli perché comincerà da quello del brevetto che abbiamo detto in realtà è ancora abbastanza dubbio c'è il problema del oltre al brevetto il brevetto in Italia è stato rilasciato però c'è il brevetto europeo che è più importante che è ancora invece in attesa di essere rilasciato c'è il problema della sicurezza noi stiamo parlando di una macchina che allegedly si dice che faccia energia nucleare voglio dire io credo che qualunque agenzia di sicurezza prima di farla mettere nelle nostre case ci pensi bene prima di autorizzarla quindi novembre è dietro l'angolo la vedo piuttosto difficile un breve stacco pubblicitario pochi minuti e ritorniamo immediatamente restate con noi